Oro! Tutto iscrivetevi per raro se organiza Tutto iscrivetevi per raro Acá estaba casas in todo lado Una ciudad entera De lo Huari Questa città è una città con oro a la mitad, però a la mitad tiene algo blanco. Qui si è un batang? C'è un batang? È dove pelava il trigo, come una piedra che sia redonda. Ah sì, dove è? Ah sì, come si si è chiamato, in Aymara? Cunhaya 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 Se falta il pedazzo, qui pelava il trigo Molava la quinoa con una piedra Que sia redonda Asi ovalava Una piedra E lì sacava tipo mazamorra Se pelava il trigo, la cebada Se molia la quinoa Quinoa molia